ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo inizio di stagione scoppiettante siamo qui in diretta per la conferenza stampa di mister inzaghi un saluto agli amici gaetano e paolo possiamo commentare insieme la conferenza e vediamo cosa dirà il mister piena di emozioni prese che intertroeranno i tifosi che anche domani riempiranno san siro fino al sold out beh sicuramente domani sarà sarà emozionante anche perché la prima volta che rivedremo i nostri tifosi dopo dopo istanbul dove sono stati chiaramente meravigliosi lui vediamo l'ora di cominciare speriamo di cominciare nel modo giusto perché sono merito ricordiamo che san siro sarà sold out chiederle in questi giorni qui visto che si comincia che vibrazioni sta sentendo nella squadra nell'ambiente in generale lei aveva parlato di dover iniziare meglio di come avete fatto l'anno scorso di recente pastoglia del do abbiamo peccato forse un po di presunzioni quindi vorrei capire se nota delle differenze rispetto all'inizio dell'anno scorso io le domani la preparazione i ragazzi hanno lavorato molto bene abbiamo lavorato bene nonostante abbiamo avuto dei viaggi lunghi complicati però la squadra si è allenata nel migliore dei modi come come la squadra anche lui dello staff vediamo l'ora di cominciare sappiamo che abbiamo delle delle responsabilità abbiamo queste tre partite domani quella col monza prima del soste vogliamo chiaramente utilizzare nel modo giusto ci auguriamo ciao inizia di questa stagione non la visita che in roba vedi a poca atteggiato in viti stagionali la stella la scuola come i giovani per quanto riguarda il mercato lo sappiamo che è un mercato complicato per quasi tutti sappiamo che è in atto un grandissimo cambiamento abbiamo cambiato tantissimi giocatori qualcuno chiaramente tra i migliori del proprio ruolo in italia però sono arrivati giocatori di grande prospettive giovani qualcuno più esperto che chiaramente aiuteranno quest'ultimo mi dice ma per fare un fronte a una squadra della squadra su livello più forte più debole ma quello chiaramente lo dirà lo dire al capo l'ho detto privi abbiamo fatto abbiamo cambiato tanto per scelta qualche scelta nostra qualche qualche altra scelta da parte di qualche giocatore però quello che saremo lo dirà lo dirà il campo io per quello per quanto mi riguarda posso dire che ho visto un grandissimo impegno sono contento come la squadra lavora i giovani ho detto sono sono giovani importanti che hanno già esperienze di campionati serie a poi abbiamo messo giocatori qualche qualche giocatore più esperto che aiuteranno che aiuteranno in questo b sport ciao mi sta un giro sulla linea per quanto riguarda le griglie pronostici favoriti non non mi piace farle non non li ho mai fatto io ho detto solo il giorno della presentazione che il nostro grande sogno sarebbe quella di vincere la seconda stella perché poi chiaramente il nostro obiettivo come quello degli altri anni e vincere e vincere trofei e fare più partite possibili come sono stati negli ultimi due anni sappiamo che sarà un percorso lungo e difficile metteremo l'impegno massimo per far sì che ci sono posti dai sport ciao ciao dicevamo sappi che i giocatori che di là della qualità avevano altissima esperienza carisma conoscenza campionato su cosa punta un allenatore come caratteristica principale della squadra che vuol provare a vincere però è diversa dell'anno scorso e cosa sarà l'entusiasmo sarà l'entusiasmo e le motivazioni quello che mi hanno dimostrato i ragazzi in questi primi 45 giorni di lavoro insieme è un impegno folle che hanno messo in questi due anni qui all'inter chiaramente come ho detto prima ci sono stati dei cambiamenti si è cambiato dieci giocatori cosa che non era successo l'anno scorso è successa quest'anno ma fa parte il calcio moderno in più vogliamo ammettere sicure che per tutti gli allenatori non solo per me abbiamo questi quanti del mercato aperto perché magari adesso stiamo pensando a un qualcosa che primo settembre magari sarà un altro di più insomma il mercato arabo sarà aperto per altri 20 giorni magari qualche allenatore si può trovare con qualche giocatore in meno senza possibilità di richiesta sport italia ciao simone prima cosa si è parlato di un carattario che è più soft per inter all'inizio però è anche vero che i piccoli delle prime giornate giocano al trasferso soprattutto con una freschezza di pensiero e magari più in là il campionato non ha quindi se c'è una consapevolezza di voi che anzi può essere più ricoloso questo inizio di campionato e cosa ti serve di dire questo inizio di stagione quello che hai visto ma per quanto riguarda il calendario lascia il tempo che trova perché noi l'anno scorso dovevamo avere un calendario molto molto difficile alla fine proprio lì dove abbiamo recuperato posizioni dove ci siamo assicurati il posto c'è anche a febbraio non era così certo ma avevamo le ultime dieci qui sette partite sulla carta complicatissime le ultime dieci ne abbiamo ne abbiamo vinte 8 persa 1 e pareggiata 1 quindi abbiamo vinte 8 pareggiata 1 e persa 1 quindi a volte i calendari lascia il tempo che trovano non sappiamo che in Siria tutte le squadre sono organizzatissime dovranno dovranno essere interpretate nel migliore dei modi quanto riguarda il mio pensiero quello che ho detto io posso posso solo dire per quello che ho visto in questi 40 giorni ho visto la squadra lavorare bene ho visto la squadra che che sta andando dietro il gioco che proponiamo insieme allo staff e per quanto riguarda il mercato questa grande incognita che è ancora aperto con la società ci confrontiamo h24 e quindi sappiamo tutti quanti dice ma con il difensore e dovremmo essere bravi a prendere un giocatore importante nella posizione mancata piazzetta dello sport qualche domanda fa hai detto che alcuni giocatori sono stati scelto di tider da voi e qualcun altro invece se n'è andato il suo avolo lo chiede di se tranne righe e se quella è una ferita in qualche modo senza riter può rimanere ma per quanto riguarda ho già parlato e lo ringrazio di quello che ci ha dato l'anno scorso ed è tutti che che l'ho rivoluto e l'ho voluto con tutte le forze l'anno scorso l'avrei rivoluto anche quest'anno e lui ha scelto in modo diverso dispiace per come è finito perché era stato riaccolto dalla famiglia inter curire dello sport ancora sulla tà noi fatto la conferenza stampa prima della stagione c'era ancora aperta la possibilità di prendere il capo in mezzo a quel giorno ci sono stati diverse opzioni diverse trattative e alla fine arriva arnauto via qualcosa sul quello che è la adesso il leader ha perso qualcosa è cresciuto in qualche cosa come è il libero poi anche quello che si è visto nelle il precampionato inter ha prodotto tanto ancora c'è questo difetto di sbagliare tanti gol al di là che poi sono fatti 4 sia negli ultimi due partiti però c'è questa grandissima inizia offensiva che non si concretizza l'anno scorso l'inter l'avrei attaccare per quanto riguarda gli attaccanti insomma in questo momento i quattro i quattro che ho a disposizione stanno stanno lavorando bene l'autario correa riconoscete e durame arnatovi ci sono due giocatori nuovi che tutti conoscete di grandissima di grandissima caratura che devono pubblicità cosa ne pensate in questo allora io volevo centralizzare solo una cosa sulla domanda che era stato fatto degli obiettivi merito agli obiettivi ecco io non so se per voi la stessa cosa ho notato il fatto che secondo me la società gli ha imposto di arrivare alla seconda stella infatti lui non ha parlato di vincere 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 proprio utilizzando sulla seconda stella quindi ci hanno dato io ho notato invece che ha messo sogno seconda stella ha detto proprio il sogno è comunque la seconda stella dipende quindi non vorrei che c'è stato magari un ritmo un ridimensionamento dal punto di vista di obiettivi comunque scusami paolo ti ritorno all'intervista che vai 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 qui bisogno che che vengono presenti ma via di loro due ci sono si parla di turam abbiamo fatto tanti altri questi che non sto qui per amarnautovic ci dà la possibilità di essere di essere completi noi sappiamo che ci manca ancora un difensore e la società sta lavorando per questo buongiorno mister dovrei pubblicare alla fondo scusami volevo chiederle che il difensore che manca che caratteristiche deve avere cioè che giocatore che giocatore si aspetta come caratteristiche deve essere un terzo noi abbiamo il reparto difensivo abbiamo giunto Bisse che è un giovane un giovane di ottime prospettive che sta lavorando viene dal campionato danese che chiaramente è diverso da quello italiano è un nazionale under 21 tedesco sta lavorando molto bene e secondo me ci ci darà delle soddisfazioni ma giusto aspettarlo e attenderlo e aiutarlo e per quanto riguarda mi manca ci manca un difensore un difensore un braccetto destro che in questo mercato non è non è facilissimo da trovare chiaramente c'è qualche profilo su cui stiamo lavorando speriamo di poterlo acquistare la stampa ciao simone ciao perché c'era ancora quello sull'attacco se secondo te sarebbe necessario fare ancora qualcosa in entrata se ci fosse un'occasione negli ultimi giorni di mercato domanda patinica è già la seconda la caratter l'hanno completato poi dal terzo di spalletti del quarto degli eserbi perché per gli allenatori italiani è una bella soddisfazione grazie chiaramente che sono molto felice di questa prestigiosa nomination insieme a due grandissimi allenatori chiaramente questa nomination va va condivisa con il mio prezioso staff con la società e con i calciatori ricordiamo che gli altri due sono guardiola e spalletti quanto riguarda l'attacco con quattro cacciatori abbiamo visto anche anche lo scorso campionato sono sono serviti questo momento con questi cacciatori ho detto sono sono soddisfatto e da domani possano far sì che che l'inter saccia ultime poi dai dai non si sbilancia molto finissima definire le caratteristiche di turam e arnautovic possono servire diversamente o hanno semplicemente che in braimovic fa costo ma sono due sono due giocatori con caratteristiche riferenti insomma arnautovic è un giocatore un giocatore fisico chiaramente una prima punta che ha grandissima tecnica ha esperienze un giocatore importante turam nazionale francese che ha fatto molto bene negli ultimi anni a monce gabac giocatore che interessava già nello scorso mercato invernale quest'anno la società è riuscita a prenderlo secondo me è un ottimo acquisto sono due giocatori che con gli altri due attaccanti che ci sono in brosa si integrano molto bene buongiorno mister sono qui Stefano Sensi si è distinto in questa fase di preparazione al campionato le chiedo quali siano i piani sul giocatore se è già stata presa una decisione definitiva e se pensa che possa ritagliarsi uno spazio in questa nuova inter ma sicuramente Stefano sta sta lavorando benissimo quotidianamente e quindi io sono contentissimo di come è ritornato qui ma ero ero contento anche i primi sei mesi che è stato con WEC è stato prezioso quando è entrato in campo ha fatto gol importanti anche per qualche per qualche vittoria che ci ha garantito sta lavorando molto bene e sono soddisfatto adesso pensiero che portate quello che ho in testa è il mercato giocatori rosa e la partita domani del Monza perché sappiamo negli allenatori che chiaramente domani dovremo essere qui per parlare del Monza e del Monza della prima se ne sta parlando un pochettino meno Monza News buongiorno Luiz c'è tanta Inter in questo Monza e c'è anche tanto Monza in questa Inter su tutti gli ex frattesi e Carlos Augusto come ha trovato il brasiliano e dove mettere in difficoltà il Monza che l'anno scorso ha fatto due brutti scherzetti a lì? ma per quanto riguarda il Monza sappiamo è una squadra molto organizzata con un ottimo allenatore che l'anno scorso ci ha messo in difficoltà quindi l'abbiamo analizzata ci siamo allenati per far sì che domani si possa fare un'ottima partita per quanto riguarda insomma Augusto e Frattesi li conoscete tutti sono due grandi calzatori che a parere mio ci aiuteranno tantissimo Frattesi è una mezzala moderna che unisce qualità quantità per quanto riguarda Carlos è un ottimo giocatore che insieme a Quadrado insomma ci permette sui nostri famosi quinti di avere alternative importanti a gara in corsa a inizi insomma poi di volta in volta sceglierò inizialmente chi far partire Calcio mercato Buonasera amici Invece ho parlato della sua soddisfazione nell'essere inserito tra i tre allenatori che sono arrivati in fondo al premio UEFA però le chiedo questa candidatura con Palazzo Finan con Palazzo Finan quello è senz'altro l'ho detto prima non lo nego è un obiettivo insomma non ne va di parlare di giocatori di altre squadre non è l'unico perché c'è una rosa non larvissima perché noi abbiamo bisogno in quella posizione è un giocatore importante fermo restando che Darmian per noi è stato un anno imprescindibile che è stato importantissimo in questi due anni sia da quinto che da terzo gli vanno infatti i complimenti per le stagioni che ha trascorso qui all'Inter ma in tutti i ruoli come negli altri ruoli ho bisogno di competizione tra un giocatore e l'altro perché così si alza anche l'Inter cittadino facciamo le ultime due per poi come out of work vuole essere il mio salto del giorno a inizio della stagione avevo già qualche dubbio da parte di Sacchi sull'Inter Aleta insomma non ha grandissime individualità l'ha chiamata a fare il salto di qualità anche a lei personalmente condivide in parte l'analisi cosa pensa di questa analisi di da parte di Rosan ma devo essere sincero che me lo riportate voi non ho letto e anche quest'anno insomma il solito santo l'ho dato personalmente di me che non mi interessa più di tanto ma dei miei ragazzi perché secondo me sono due anni che stanno facendo grandissime cose l'ultima cittadino di Morsa Buonasera mister che tipo di Monser si aspetta domani e cosa pensa degli ex D'Ambroso e Gagliardini che sono passati ora in Brians beh chiaramente domani San Siro li applaudirà perché sono stati non dimentichiamo anche Carboni che l'anno scorso è stato Valentino è stato di rosa qua con noi ha fatto qualche spezione di partita è un ottimo giocateore con ottime prospettive per quanto riguarda D'Ambroso e Gagliardini insomma li conoscete tutti sono due grandissimi giocatori due ottimi professionisti due ottimi professionisti ed è giusto che San Siro li applaudano perché se lo meritano grazie buon pomeriggio a tutti grazie bene eccoci qua tornati allora prima riflessione secondo voi Inzaghi dopo queste dichiarazioni non parlando della partita di domani bensì centrandoci sul mercato è finora soddisfatto del mercato vai Gaetano prima che hai ho sentito possibilista e anche propositivo dalle prime battute diciamo della conferenza ha parlato come diceva anche Pocanzi Paolo di Seconda Stella ma ha sottolineato sogno proprio perché logicamente si è un po' ridimensionato quello che è il progetto iniziale in primis di Lucano e è anche soddisfatto degli avrì ha fatto appunto i complimenti anche come sta vedendo dai frattesi ai isse quindi hanno detto che comunque si stanno allenando molto bene non comunque ci sta molto entusiasmo nel gruppo le motivazioni sono alte e per il resto l'ho visto con i piedi per terra e diciamo è una delle papili però a livello di carica di come girando anche i bookmakers lui comunque è più sul piedi diciamo stati piantati in terra al momento i risultati sì Paolo tu come hai visto invece questo come commenteresti le parole di Inzaghi riguardante appunto il sogno secondo Scudetto io ribadisco lui ha utilizzato la parola sogno secondo me proprio per un attimino tampolare la cosa però secondo me è proprio un obiettivo che gli ha imposto la società ha sbagliato sì Soio Scudetto Seconda Stella se lo meritano i tifosi quindi secondo me è proprio quello lì è un obiettivo è l'obiettivo secondo me io condivido condivido in parte quello che dici tu in parte quello che dice Gaetano perché secondo me si è partiti come obiettivo Seconda Stella ma anche la dirigenza sta prendo un attimo gli occhi e sta vedendo che le opportunità di mercato scarseggiano e quindi spero non sia così ma ho paura di un ridimensionamento e un e appunto un sogno Seconda Stella non una possibilità concreta e spero che non sia così ripeto però io ce la giochiamo qua non c'è una che è in vantaggio rispetto alle altre perché noi vogliamo dire logico rispetto all'anno scorso come parco attaccati se voluto il mio parere punto di vista eravamo superiore poi hai fatto dei nuovi investi bisogna vedere se resteranno così davanti se sto fermato anche sul correa bisogna vedere appunto se esi chiude qui anche a livello di attacco ci sarà magari a fine del mercato in ultimi giorni qualche novità poi è normale allora sicuramente a livello numerico siamo come l'anno scorso attenzione non abbiamo defezioni ok chiaramente la qualità dell'attacco è inferiore almeno sulla carta rispetto all'anno scorso poi bisogna sempre vedere il campo ragazzi sì assolutamente assolutamente sicuramente però c'è da dire che a livello di 100 campi soprattutto sugli esterni abbiamo fatto un salto di qualità rispetto all'anno scorso queste cose bisogna vedere che impatto può avere sulla squadra diciamo che la difesa e l'attacco sono i due reparti più penalizzati rispetto però in centrarci vorrei posso rilieare che anche lui non ha finito che si aspetta il braccio adesso perché logicamente ha anche sottomigliato che Dargan in questi ultimi due hanno fatto bellissimo però ha bisogno di competitività anche nel reparto e c'è bisogno comunque qualcuno che li dia nel camp sì perché comunque ricordiamo l'anno scorso abbiamo giocato 57 partite i giocatori comunque credo che a fine stagione siano rimasti fondamentalmente storditi da questo gran numero di partite quindi più giocatori siamo più giocatori sono meglio è assolutamente nel volevo notare il cambiamento di Inzaghi per quanto riguarda l'ultima parte dello scorso anno ho visto un Inzaghi molto nervoso molto meno aziendalista del solito mettiamola così oggi ho notato che questo aziendalismo è tornato in lui io speravo che non tornasse questo magari sottolinea che lui è comunque contento del lavoro svolto dai dirigenti e dai giocatori che hanno e stanno portando in squadra poi vediamo cosa io vi sono segnato un po' di voglio solo puntualizzare una cosa ridendo bene l'aziendalismo una cosa essere yes man è un'altra quindi essere aziendalisti non vuol dire fare essere no no assolutamente infatti l'ho messa sul piano dell'essere soddisfatto sul lavoro svolto è anche soddisfatto parte quei due tasselli uno magari in attacco e uno in difesa difesa che arriverà è normale che io potendo sempre cercare a volere migliori però poi ricordiamo anche precedenti allenatori che sbattere i pugni a una tavola e dire voglio questo lo conosciamo in Zag che è sempre stato un'aziendalista però con sempre fatto il massimo con quel che avevo sì sì diciamo che si differenzia proprio ad esempio da un conte per sono lo yin e lo yin si assolutamente vediamo poi mi sono segnato un po' di cose hanno parlato per quanto riguarda il calendario che è stato detto che è un inizio più semplice rispetto all'altro tradotto milan perché milan già mettono le mani avanti e però ingiustamente ha anche sottolineato che non c'è una una vera cioè un vero vantaggio anche perché ricordiamo che le ultime partite dello scorso campionato erano comunque pelle ossiche però se vissi il filotto che si è fatto di punti quindi alla fine le partite vanno tutte giocate primo le squadre di mezza in metà classifica una gara stanno anche loro in fase di completamento quindi è tutto da vedere con il calzo soprattutto nel campo esatto puoi giocare proprio come dice lui partita per partita non pensare al calendario in toto eviterei la questione a Rigosacchi perché vediamo comment no comment esatto e si è soffermato su Pavard sull'importanza del terzo del braccio destro quindi c'è questo reale interessamento per Pavard e ha aperto comunque ad altri qualora non si dovesse arrivare a Pavard ha aperto ad altri difensori ovviamente e in ultimo ma non meno importante gli ex giocatori di Monza e Inter c'è tanto Monza in questa Inter ma c'è anche tanta Inter in questo Monza ricordiamo che tre ex Nelazzurri approdati a Monza sono Valentin Carbori Roberto Gagliardini e noi invece abbiamo Fratesi Carlos Augusto e credo credo sia tu questi ok c'è poco da dire nel senso che l'unico vero acquisto secondo me è Carlos Augusto che va ad ampliare il parco si guarda che importante perché per il gioco di Inzaghi i due laterali sono i due esterni sono quelli che infatti vengono sistematicamente cambiati a kick in corso quindi basta di avere comunque innalzata la qualità è un vantaggio per tutta la squadra Voi vi aspettate che lui cominci come al solito con i suoi giocatori della passata stagione o vi aspettate delle modifiche della formazione come vedete All'inizio tra la classica ovviamente solo con lo somber giustamente e trover il resto in 3-5-2 solito con i soldi Dargan del Rai e passo ricordiamo che è ancora è disponibile quindi in attacco in attacco Duram Duram ok ci condivido sì sì sono dello stesso avviso anche perché Duram vedremo come si mette la partita anche inizio ripeto partita in corso dei vari partisi ritrovetti di quadrato il posto di quadrato non l'ho sentito parlare sbaglio no sì l'ha nominato quando ha nominato i quinti ha detto che grazie all'arrivo di Carlos Augusto e di quadrato la squadra ha la possibilità di rifiatare appunto si l'ha nominato solamente in questo in questo senso è stata una bella conferenza stampa bene spero che che questo video vi sia vi sia piaciuto vi possa interessare l'argomento vi invito ad iscrivervi vi invito a seguirci sugli altri social quale TikTok Instagram lo stesso YouTube e assolutamente chi sarà lo stadio ci vediamo lo stadio domani io purtroppo non ci sarò ma Paolo presente vabbè se vi vedete in giro facciamo un saluto al canale va bene assolutamente sì assolutamente sì ciao ragazzi sempre forza in te ciao